Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi andiamo a conoscere insieme il Recon One Mini di Colstil questo modello non molto famoso, una misura perfetta e di sì che si adatta perfettamente alla mano andiamo a vederlo insieme eccolo qua ragazzi Recon One Mini di Colstil ragazzi il Mini e non il Micro, questo qua è la via di mezzo tra il Recon One classico e il Recon One Micro ragazzi è proprio la via di mezzo secondo me perfetto e dc come misura davvero un coltellino ragazzi piccolino eccolo qua piccolo ragazzi tanta tanta roba davvero tanta tanta roba questo modello di Colstil come tutta questa produzione di Colstil ragazzi il DLC cioè la copertura nera della lama è fatta veramente male fa veramente cagare ragazzi tagliate un panino ragazzi e sembra che siete andati a fare la guerra in Vietnam tagliando bambù, filo spinato e cadaveri ragazzi davvero un DLC che fa pena, si sfoglia davvero tagliando le minime cose la lama resta veramente brutta perché rimane tutta completamente segnata ragazzi davvero tutta segnata stanno suonando anche le campane a morto ragazzi per il DLC che se n'è andato per quale motivo ragazzi se n'è andato perché Christian che è il vecchio proprietario che me l'ha ceduto l'ha levato ragazzi ha fatto un bellissimo lavoro guardate tutto customizzato senza DLC secondo me è fantastico un coltello davvero ragazzi formidabile che veniva rovinato da un DLC pessimo così è veramente veramente bello ragazzi davvero bello andiamo a dare due misure di questo coltello il coltello nella sua interezza misura 18.1 cm e da questa lama clip point ragazzi eccola lì finitura stonewashed praticamente rimasta senza il DLC molto lucida ragazzi molto bella un bel lavoro eh ragazzi di 7.6 cm con uno spessore di 3.5 mm una bella lama ragazzi un bel appoggio per spingere con il pollice tanta roba quello che invece non trova appoggio ragazzi sulla manicatura il pollice qui non ha proprio appoggio meglio appoggiarlo avanti andare a lavorarci tranquillamente ragazzi lama in house 8a ragazzi house 8a lo sapete tutti ormai acciaio economico però ragazzi trattato da colsteel che gli acciai li sa trattare da dio ragazzi è un acciaio che veramente mi dà delle soddisfazioni ovviamente è un acciaio da affilare come vedete il coltello è usato e riaffilato eccolo lì però ragazzi ripeto è un coltello che si affila facilmente il filo dura il giusto un buon compromesso ragazzi tra super acciaio acciaio super economico ci sta in mezzo l'acciaio economico ragazzi di colsteel che lo sa temprare veramente veramente bene è partito pure l'allarme non so se lo sentite ragazzi tutti contro questa recensione oggi il Recon One Mini ogni elemento di disturbo ragazzi andiamo avanti senza badare al resto manicatura manicatura secondo me eccezionale ragazzi G10 manicatura in G10 senza cartelle interne come potete vedere ragazzi un'ergonomia fantastica fantastica ragazzi un coltello comunque da 18 cm non è un coltellone eppure si impugna veramente bene ragazzi davvero eccezionale l'ergonomia di questo modello davvero tantissima roba in mano sta da dio ragazzi sta veramente da dio tra l'altro il G10 eccolo qua ve lo faccio vedere bene lo vedete è lavorato molto molto bene ragazzi ed ha un grip esagerato sulle mani uno dei G10 lavorati meglio che conosco ragazzi davvero tanta roba ripeto il coltello è usato è usato anche un bel po' quindi il G10 non si è lasciato andare per niente ragazzi tanta 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 roba ragazzi tanta roba foro per il laccetto e clipettina ragazzi sul coltello sempre un pochino dure quelle di Core Steel ragazzi il coltello eccolo qua da chiuso in tasca ragazzi non lo sentite nemmeno un coltello leggero ragazzi un coltello che si apre col suo Thumstead e ha il blocco famosissimo Triad Lock ragazzi quindi blocco veramente sicuro che trasforma questo piccolo coltellino quasi in un fisso vi ricordo che nella confezione trovate due clipettine ragazzi per quale motivo perché c'è la destra e la sinistra ragazzi non ve le mettono due a caso c'è destra e sinistra in caso siate mancini ragazzi visto che sono curvate ovviamente quella che va bene di qui non va bene di là ragazzi perciò ne mettono due ragazzi un coltello che mi piace un coltello che ho usato davvero davvero un bel coltello di costi levato il problema del dlc è un coltello che vi consiglio veramente soprattutto per la sua ergonomia ragazzi esagerata dovete provare a tenerlo in mano per sentirla levategli il dlc e andate a conquistare le ragazze invece noi andiamo alle conclusioni finali recon one mini di costi ragazzi un coltello che si adatta perfettamente alla mano un coltello dalla misura perfetta edisi un coltello che eliminato il dlc quindi in questa versione customizzata ragazzi è un coltello che vi consiglio a pieni voti che mi è piaciuto tantissimo da usare dal recon one mini di costi dal parchetto del tagliagole è tutto buona giornata e ciao